La scelta migliore di Patrizia De Angelis Citazione A chi mi veglia in ogni momento dal cielo e a chi mi è sempre accanto in terra Prologo, Università d'Evermont, Burlington Possibile che finora non l'abbia mai visto, mentre adesso lo incrocio quasi ogni giorno? Di chi parli? Vedi i ragazzi là in fondo? Nicola attese che l'amica focalizzasse Il più alto di tutti, appoggiato alla porta d'ingresso del bar Ah, è lui, borbottò Elisabeth dopo aver dato una rapida occhiata Lo conosci? Carino, ma niente di speciale, fossi in te non mi farei prendere da una simile agitazione Non è nemmeno il tuo tipo Lo so, non lo è, ma ha qualcosa di magnetico, di affascinante Addirittura? Sei seria? Nicola si spazientì Sì, e dovresti esserlo pure tu, sai dirmi qualcosa o no? Ok, ok, calmati, sono in grado di soddisfare con facilità la tua curiosità È un amico di Michael ed è il primo portiere della squadra di hockey Se fossi venuta con me a vedere qualche partita l'avresti notato prima La frecciata viene ignorata Anche lui viene da Gerico? No, dal sud dello stato Non capisco da dove si è saltato fuori È una matricola? No, figurati, è entrato nel nostro stesso anno Alloggiava dalla parte opposta del campus, ma di recente ha cambiato appartamento Pare che sia un mezzo genio Si è già laureato e ha iniziato un dottorato di ricerca È fantastico Come no? Guarda che non ha per niente l'atteggiamento del secchione E non si capisce come si è riuscito a ottenere tanto Pare faccia di tutto tranne che studiare In altre parole è un tipo da cui stare alla larga Guardò di nuovo con occhi accigliati e aggiunse Comunque si chiama Kyle Morrison Stai dicendo che dovrei evitarlo perché è intelligente e ha una buona memoria? Ero certo che non avessi pregiudizi nei confronti di chi ottiene buoni risultati Senza stressarsi troppo sui libri Ti credevo meno invidiosa Ma sappi che ti continuerò a volerti bene lo stesso Elisabeth emise un ringhio e l'apostrofò Che simpaticona Smetti di sghignassare come un idiota Te l'ho fatta breve pensando che capissi Comunque fidati ne ho sapute abbastanza sul suo conto Tornando seria Nicole continuò a osservare Kyle a distanza Sembrava poco più di un ragazzino Con il sorriso sfrontato alle ciocche spettinate di media lunghezza Scure come la pece Non ci trovava nulla di pericoloso Non mi stai chiarendo le idee E dovresti sapere che non sono solita basarmi sul sentito dire Uffa! Allora sappi che è stato Michael a raccontarmi diversi episodi Pertanto fonte fidata Certo! Non mettere mai in dubbio le parole sante del tuo morigeratissimo fidanzato Si mise una mano sul cuore in maniera teatrale e poi scoppiò a ridere Dai muoviti! Dopo un'occhiattaccia Elisabeth spiegò In realtà nella squadra spiccano quattro elementi particolarmente scapestrati E Kyle è tra questi Mike ci esce di tanto in tanto solo per farlo contento Più volte però è stato costretto a tirarsi indietro Prima che combinassero il peggio Coinvolgendo anche lui Mi ha raccontato che hanno collezionato innumerevoli denunce Per atti vandalici e risse E Kyle è stato beccato di frequente sbronzo e mezzo nudo per le vie dell'Ateneo Ha rischiato spesso l'espulsione Ma pare che i meriti scolastici gli offrono un'ottima ancora di salvezza Ti può bastare? A vederlo così non sembra tanto male L'apparenza inganna Si soffermò per un istante a sfruttarla e l'ammoni Ehi! Non metterti in testa di farla crociare ossina e salvare le cause perse No! Figurati! Nicola spinse via ridendo e dopo un cenno di saluto corsi in aula Raggiunse la prima postazione libera E una volta seduta tornò col pensiero a Kyle Lo aveva incrociato parecchie volte senza mai parlarci Ed era rimasta stregata dagli occhi all'apparenza dolci Ma tormentati In quei brevi frangenti i loro sguardi si erano in corsi Nonostante l'imbarazzo e la diffidenza Non lo riteneva una bellezza canonica Ma era certa che trasmessesse qualcosa capace di scombussolarla da capo a piedi Emanava forza, virilità, carisma e gentilezza E il viso dai caratteri tanto marcati singolarmente perfetti Era comunque un incanto Sbuffò e ripensò alle parole della migliore amica Forse avrebbe fatto meglio a dargli ascolto Ma decise di concedersi uno spiraglio Lasciando l'ultima parola al fatto Emanava forza, virilità, carisma e ripensò alle parole della migliore amica